A me dare grande importanza agli odiatori non mi sembra il caso quando vedo continuamente manifestazioni di affetto nei miei confronti, per cui perché devo stare a pensare agli odiatori? Io preferisco pensare a quelli che mi vogliono bene, la Commissione partirà con me, anche se con sacrificio vittime ai 90 anni che tutti conoscono, ci tengo molto a questa Commissione perché mi sembra che combattere l'odio sia veramente una battaglia da condurre con le parole, con le parole del bene. Io, Sindaco, conferisco alla Senatizio di Nena Sede la cittadinanza oraria della città di Genova per riconoscere il suo ruolo fondamentale che sta svolgendo dal punto di vista morale, della preservazione della memoria e del suo ruolo attivo di azione civile, nel contrasto dei fenomeni di intolleranza, di razzismo, di antisemitismo e di istigazione all'odio e alla violenza. Genova, 24 novembre 2019. Grazie. Grazie a tutti quelli che mi hanno accolto con tanto affetto. Io sono arrivata ad Auschwitz il 6 febbraio 1944. Tra le 31 donne, scelte tra centinaia per continuare a vivere almeno finché avessi avuto la forza di lavorare, incontrai immediatamente nella mia solitudine tragica, il 13enne sola, tre persone di Genova, una mamma e due figlie, Ernestina, Laura e Luciana. Le invidiai immediatamente perché erano una piccola famiglia. Avevamo un trio di italiane, un trio di italiane che potevano parlare per di loro. Fummo insieme per tutta la prigionia e fu un grande dono recicloco. Luciana fu sopravvissuta insieme a me. Il nostro regale è durato tutta la vita che Luciana è morta. Mi è stato detto che qui in questa stagione c'è un nipote di Luciana che io non ho mai conosciuto e che sarei felice di dire poco e di abbracciare. Bene, grazie, ho avuto un mio regalo grandissimo oggi. Grazie, grazie. Grazie.